Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebiometrio.com Giornata di venerdì ancora nel complesso ben soleggiata su gran parte della nostra penisola salvo una maggiore nuvolosità marittima sulla Liguria che poi in serata tenderà a estendersi anche alla Valpadana centro-occidentale Per quanto riguarda le temperature queste non subiranno variazioni di rilievo al più una lieve diminuzione nei valori minimi al sud mentre le massime saranno stazionarie e su valori ancora decisamente gradevoli da nord a sud compresi generalmente tra 18 e 24 gradi ma con punte anche superiori sulle isole maggiori Andiamo ora a vedere il dettaglio previsionale per il nord dove la giornata trascorrerà ancora in compagnia del sole seppur con qualche velatura in transito da ovest verso est ma maggior nuvolosità impegnerà invece la Liguria e poi verso sera si estenderà anche a Piemonte e alla Lombardia occidentale in particolare sul settore di pianura Per quanto riguarda il centro avremo anche qui una bella giornata di sole con qualche velatura in transito mentre maggior nuvolosità in Toscana verso la fine del giorno in particolare sarà più compatta verso i settori costieri E infine al sud è una bella giornata di sole su tutte le regioni con solo qualche velatura in transito in particolare sulla Sicilia ed anche in Sardegna dove tenderà ad essere più compatta verso sera Bene, con questo è tutto, maggiori dettagli su trevimetro.com Grazie a tutti